Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per incidente, un chilometro di coda tra Firenze Imprunita e Firenze Scandicci. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Ovest. La viabilità cittadina a Firenze in Viale Giovine Italia, restringimento di carreggiata per anomalia stradale. Chiudiamo con i treni a causa del deragliamento avvenuto questa notte nei pressi di Firenze e Castello. La circolazione sull'alta velocità Firenze-Bologna è tornata regolare, mentre permane sospesa la linea convenzionale Firenze-Bologna e la linea Firenze-Viareggio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.